Deve stare ferma per 700 ore? È praticamente un mese intero! Ma è impossibile! Cosa succede se si muove? Ricalcolo, ricalcolo... Oh, grazie il cielo! Cata, cosa fai? Mica non potevi muoverti! Hanno ricalcolato il tempo, sicuramente è stato un errore! Sei stata molto fortunata! Sì, penso sia impossibile restare fermi per così tanto tempo! Ascoltate, ci sono informazioni molto importanti! Scusi, che tipo di informazioni? Ogni mese verrà scelto uno di voi che infrangerà le regole del sistema! Sono fuori di testa! Ma cosa volete che sia? Non possono obbligarci! Umidiocata, stai ferma, non ti muovere! Domani sceglieranno la persona che infrangerà le regole! È assurdo, nessuno sa cosa succede se non si rispetta il tempo! Oggi è il giorno, ci sono dei volontari! Io? Voglio farlo io! Molto bene, vieni con noi! Scegliete un foglio, se c'è sopra un simbolo siete voi prescelti! Il mio è vuoto! Ho il simbolo, ho ricevuto il simbolo, e ora? Ora puoi muoverti, sei la prescelta, devi farlo per forza! Aspettate, non so se voglio farlo! Non hai scelta, muoviti! Cata, cosa stai facendo? Ti devi muovere! Melissa, non posso! Come non puoi? Perché non puoi? Ho troppa paura, non voglio muovermi! Devi muoverti per forza, ti hanno scelta! Guardate, si sta muovendo! Si è mossa! Sto bene, sono viva! Mi vedete? È successo qualcosa? Riuscite a sentirmi? Mi sentite parlare? Sì, tranquilla, sei sempre la solita sfigata! Sempre gentile, Francesco, grazie! Tesoro, stai bene? Sì, mamma, sta bene! Sono stata in pensiero tutto il giorno, pensavo fosse esplosa o chissà cosa! Cosa? La gente esplode quando infrange le regole? Stai tranquilla, sono solo leggende, nessuno sa la verità! Non ti è successo niente? Esatto, niente di niente, sono viva! Katarina, FBI, devi venire con noi! Perché mi avete chiuso qua dentro? Lo sai benissimo il perché! No, non lo so, non ho fatto niente, lasciatemi andare! Perché hai infranto le regole del sistema? Perché mi hanno detto di farlo! Chi te lo avrebbe detto? La scuola! Sono la prescelta, c'è qualche problema? Sai cosa succede alla gente che decide di non obbedire al sistema? Non lo so, ma mi hanno detto che potrei esplodere da un momento all'altro, è la verità! Cosa cavolo stai dicendo? Esploderò! Mia mamma ha detto che può succedere! Quando qualcuno decide di ignorare le regole... Cosa? Lo fate scomparire? Assolutamente no! Mi porterete in mezzo all'oceano in modo che io non possa mai più tornare a casa mia? Puoi ascoltarci per un secondo? Ok, cosa succede? Se infrangi le regole succede che sei finalmente libera! In che senso? Sei stata scelta per essere libera, congratulazione! Gratulazione!